E' successo il prevedibile, perché sono mesi che si sta pregando l'amministratore di provvedere a questa caduta di calcinacci, ma più che calcinacci, di pezzi di cornicione, molto molto grandi. Già alcune volte, alcune persone sono state miracolate. Stavolta a me, sì, anche io sono stato miracolato, perché veramente poteva succedere qualcosa di irreparabile. Per fortuna mi ha preso di striscia alla testa e alla spalla, piccola contusione, una fleb, una corso in ospedale con l'ambulanza, un fastidio di qualche aghetto nelle vene e nient'altro. Pochi minuti in cui ero traumatizzato, ero un poco stressato. Tutto puoi pensare in quel momento che cade una vieta in testa. C'è una persona che era un po' quel factotum di questo palazzo, che veramente ha fatto tanto per informare l'amministratore, i condomini, tra cui una signorina che abita al piano di sopra, che reclama per tutto, ma non hanno mai messo mano alla tasca per poter fare i lavori, almeno di spicconamento. Che le sappia, il comune non ha mai diffidato, non ha mai... Mai, 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 mai. I documenti ufficiali non ne sono circolati. Di sicuro l'amministratore, insomma, non si è mai mosso, nonostante le sollecitazioni. Sì, va a una condomina dopo il fattaggio, che lo vogliono denunciare perché in sei anni non ha fatto nulla. Ma dovevano pensarci prima, perché i primi da denunciare sono loro che hanno lasciato che le cose andassero così per tanti anni. Non potevo prevedere che mi succedesse una cosa simile. Pochi giorni fa, esattamente il 12 giugno, mi si... su una pagina che ho creato, tanto per scherzare, l'incazzatore cittadino, parlai proprio del ragazzo che dopo la morte del ragazzo si stavano muovendo i vigili del fuoco a spicconare a destra e a manca. Ma non ce la possono fare, ci sono tantissimi, ci sono centinaia di fabbricati, fatiscenti a Napoli. E questo ci tocca, vuol dire che questo meritiamo come napoletani.